Ciao a tutti, sei l'amante del capo che ti lascia per una collega. Ora, questa è una situazione complicata in cui non bisognava mai mettersi, perché diventare l'amante del capo, diciamo così, che comunque è sposato nell'ambiente di lavoro e poi ti lascia per una collega dove c'è il rischio di tensioni forti che si possono creare. Insomma, come gestire tutto questa situazione? Allora, si è fatto un errore una volta, perché se vuoi trovarti un uomo sposato te lo puoi trovare dappertutto e andarsela a trovare proprio sull'ambiente di lavoro e come volersi, come dire, autoflagellarsi è un segnale che ci nutriamo di cibo spazzatura, che più spazzatura non si può. Quindi il modo migliore per uscire fuori puliti da questa situazione è, diciamo, non cercare assolutamente più, interrompere comunque ogni contatto, mantenere dei rapporti esclusivamente di lavoro, esclusivamente di lavoro, sia con lui che con la collega e poi trovarsi situazioni esterne. Tenere presente che forse è anche un vantaggio, perché il fatto che lui ti ha lasciato è un vantaggio perché se poi avessi voluto lasciarlo tu, magari ti generava tensioni sul lavoro. Quindi situazioni da evitare, visto che c'è stato questo sgancio, approfitta del fatto che c'è stato questo sgancio, visto che quindi non potrai recriminare, è colpa sua, tu hai modo di distaccarti dicendo tu stai con quell'altro, quindi non cercarmi più e mantenere il distacco. Prima che si facciano danni emotivi e non soltanto emotivi è fondamentale fare questo. Quindi un'interruzione è trovarti le tue storie al di fuori, diciamo, di quell'ambiente lì. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti a questo canale, al mio nuovo canale di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!